Bray Wyatt sarà un'esclusiva di SmackDown, o almeno così ci stanno dicendo i siti internet americani cappeggiati da Fightful. Beh, a dire il vero io lo davo già per scontato, mi sembrava palese, alla luce del sole, però forse è meglio ribadire. Ciò detto, ci sono un sacco di indiscrezioni su Wyatt, d'altronde è un nome molto cliccato. Una di esse dice che questa entità malvagia, Uncle Woody, non so se la pronuncia è quella giusta, comunque si farà rivedere e che ci sarà nei piani anche un'altra versione di Bray Wyatt mascherato. Sono tutte voci di corridoio insieme a quelle dell'eventuale fazione che dovrebbe accompagnarlo, che ci hanno circondato nelle ultime settimane e alle quali, come avete visto, sino a qui io ho dato ben poco spazio, perché era facile cadere nel tranello delle illazioni e buttare nel piatto qualunque cosa. Ad ogni modo, Bray Wyatt, personaggio esclusivo, top di SmackDown, mi sembra molto più ragionevole. Andrà un po' anche a colmare le varie assenze di Roman Reigns con una situazione estremamente intrigante e coinvolgente, quindi direi che qua, secondo me, se non siamo dritti al punto, poco ci manca. Su tutto il resto aspettiamo, perché ho come la sensazione che tutta questa vicenda, questa storia, questo arco narrativo saprà sorprenderci.